Don Marcello Cozzi, vicepresidente di Libera, dunque quest'anno il raduno è dedicato alla ricorrenza del ventennale delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Quanto secondo lei i ragazzi conoscono la storia di questi vent'anni? Il problema non penso che sia questo, nel senso che i ragazzi conoscono la storia di questi vent'anni conoscendo probabilmente una parte di questa storia, la parte più eclatante, quella più visibile, quella fatta di bombe, di stragi, di sangue. Forse non conoscono, ma d'altronde non solo i ragazzi, ma anche tutti quanti gli altri non conoscono l'altra parte, quella di cui nessuno ci ha parlato, che poi è anche all'ordine del giorno in questi ultimi tempi, è la parte, quel fiume carsico che è scorso in questi anni e che ancora deve uscire fuori e deve farci sapere tutta la verità su quello che è accaduto. 300 partecipanti da tutta Italia sono sicuramente il segnale di un movimento giovanile che cresce di anno in anno dentro la rete di associazioni di Libera. Qual è secondo lei il lavoro e il contributo che possono dare sul territorio? È fondamentale, centrale, importante, non ho altre parole. I ragazzi si fanno e sono portatori di quella passione, di quella radicalità, di quell'impegno, di quel coinvolgimento con i quali spesso insegnano a noi che siamo un po' più grandicelli a buttarsi nelle cose e nelle storie. Abbiamo bisogno di questa loro passione, anche di questa capacità loro di vedere quegli orizzonti che noi non riusciamo a vedere per portare avanti questo impegno, nel quale tutti quanti noi dobbiamo sentirci coinvolti, ma abbiamo bisogno di questo calcio che i ragazzi e i giovani ci danno tutti i giorni, con questa capacità che hanno, ripeto loro, di buttarsi nelle avventure meravigliose come l'avventura di Libera. Se da una parte fondamentale il calcio, come l'ha definito lei, dei giovani, qual è l'altro elemento fondamentale? Da parte dei ragazzi è fondamentale la loro capacità di entrare nei fatti, di non fermarsi nella superficialità, di non accontentarsi del detto da parte di tutti, ma invece di approfondire le storie perché c'è bisogno dopo questi vent'anni di guardare avanti approfondendo quello che però è accaduto in questi ultimi vent'anni. Anche di questo c'è bisogno, soprattutto forse di questo c'è bisogno. Grazie a tutti.